Tutti vogliono i regali tecnologici e noi non siamo in grado di produrli. Fortinite plus. Ma che regaliamo le medicine ai bambini? Quest'anno Babbo Natale ha un grosso problema. La concorrenza. Non ci ferma più nessuno. Solo un uomo potrà salvarlo. Capitans! Lo chiamano il re dei bacchi. Allora mettetevi al lavoro, ok? Perché porti gli occhiali da sole? Non sono da sole. Sono da sole. Ma tu hai messo le mattonelle nei telefoni. Ma non si può fare. Ah no? Voglio io ti trasformerò da Babbo Natale a Babbo Cazzimma. Un miliardo di follower. Pensa come Rosi Gammetanale. Babbo Natale non arriva all'anno nuovo. Cosa vuoi diresti sopra questa meravigliosa camicia hippico-rustica? Ho giubbine chiusa. 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 Grazie.